Albanesi di sangue e di lingua e di religione greco unita sono gli abitanti di Frascinetto e in Calabria. Esce in fila il parentado perché oggi è festa di battesimo. Il rito è ricco di simboli. Il sacerdote soffia lo spirito di Dio sul bimbo e gli impone la stola. Tutti sono più o meno attori in questo rito e la stessa madrina dovrà soffiare e sputare contro Satana perché si tenga a largo. Il giro del sacerdote intorno all'altare è l'esorcismo finale. Un secondo bambino viene immerso tre volte nell'acqua santa dove poco fa il primo è stato bagnato. Così i due bimbi ora sono come fratelli per la chiesa. Da grandi unirli in matrimonio sarebbe sacrilegio.